Salve a tutti, sono Gianfranco Marini, benvenuti alla rubrica segnalazioni per conoscere tutto ciò che di interessante per la dilatica e la formazione possiamo trovare nel tempestoso oceano del web. In questo video vorrei segnalarvi una piattaforma Clastoolnet che contiene delle applicazioni piuttosto semplici da utilizzare, sono una cinquantina, che ci permettono di creare giochi interattivi, quiz e altri strumenti utili per la didattica. Questo è l'indirizzo da digitare www.clastools.net Come potete vedere il sito si presenta con una grafica molto basica ed elementare, arcaica, e presenta una serie di icone con la descrizione del tipo di gioco, di applicazione. Per esempio questa è un'applicazione che consente di creare giochi in stile arcade. Possiamo notare che ci sono una cinquantina circa di queste applicazioni. Guardiamone rapidamente alcune, per esempio questa è la classica ruota che gira e che si può utilizzare per estrarre i nomi degli studenti. Come si vede si può editare. Possiamo cancellare i nomi, inserire i nomi che vogliamo noi e procedere in questo modo. Qui abbiamo un generatore di post stile Facebook che si chiama Fakebook. Qui vediamo le istruzioni. In pratica è una finta pagina Facebook. Possiamo inserire un nome, inserire la foto di un personaggio che so, Napoleone. Qui inserire i post, inserire i contatti di Napoleone e così via. Quindi simulare un insieme di messaggi di post e commenti Facebook. Qui abbiamo una caccia al tesoro. Anche qui vedete è molto semplice. Creiamo una serie di domande, di indovinelli. Otteniamo per ciascuna di esse, per ciascuna domanda, sfida, problema, un codice QR. Disponiamo i vari codici nell'aula o nella scuola. E poi gli studenti con i loro dispositivi andranno alla ricerca di questi indizi per risolvere la caccia. Ci sono tanti altri giochi. Per esempio questo è il generatore di esagoni, un metodo particolare per prendere appunti e per strutturare le informazioni. Qui possiamo cercare applicazioni per disciplina o giochi già creati con Class Toolnet per disciplina, ordinati per disciplina. Qui abbiamo le parole incrociate. Qui abbiamo la 3D Gallery, cioè possiamo generare una galleria formata da varie immagini, come un'esposizione museale. Questo serve per generare testi che si muovono come quello di Star War, quindi possiamo creare queste scritte, quelle che vogliamo. Con quest'altro strumento possiamo creare diagrammi di Venn, con questi altri strumenti sono modelli, questo è il modello per prendere appunti e schematizzare le informazioni a forma di diagramma a spina di pesce, questa forma di burger. Qui abbiamo una timeline, qui possiamo aggiungere dei post-it, delle piccole etichette a un'immagine in modo da commentarla o da spiegarla e così via. Come si vede sono giochi di utilizzo molto immediato, per migliorare l'applicazione, per creare esercizi, giochi e attività molto immediate, che si possono usare a tutte le età. Io ho dato FakeBoo ai miei studenti, proponendo loro una serie di personaggi letterari e storici, tra cui devono imbastire un dialogo. Possiamo anche accedere ai vari giochi usando, vedete, questo menu a tendina, menu a discesa, e selezionando il gioco che ci interessa. Tutti i giochi, come dicevo, sono gratuiti, alcuni sono molto carini e soprattutto non si richiede una grande attività per apprendere l'uso di queste applicazioni, che sono abbastanza essenziali, abbastanza semplici. E quindi ci si può concentrare su quelle che sono le competenze, le conoscenze coinvolte nella predisposizione e preparazione di quel tipo di attività o di gioco. Bene, questo è tutto, spero possiate trovare qualcosa che possa interessare voi e i vostri studenti. Vi saluto e vi auguro buona giornata.